Ciao ragazzi, benvenuti su Passione Ritmo. Oggi voglio parlare con voi di un argomento che non ho mai affrontato su questo canale. L'insegnamento, e in particolare quello dei più piccoli. E voi insegnate, avete avuto esperienze di insegnamento? Fatemelo sapere nei commenti. Come insegnante di batteria ho diversi allievi, tra cui anche bambini tra i 5 e i 7 anni. Beh, con loro certo è sempre una sfida, ma è anche molto stimolante. Come dobbiamo comportarci con i più piccoli? E quali metodi possiamo utilizzare per avvicinarli prima alla musica e poi alla batteria? Lo vediamo tra un attimo, dopo la sigla! Prima di tutto, bisogna ricordare che per i bambini la musica deve essere un gioco, e la batteria un grande giocattolo. Per questo noi, più che insegnanti, dobbiamo essere dei veri e propri compagni di giochi. I bambini hanno un livello di concentrazione molto più basso di un adulto. Ecco, per risolvere questo piccolo problema, basta fare delle pause ogni 15 minuti in cui si ascolta insieme della musica, o semplicemente si parla di altro. Per stimolare la loro attenzione e la loro curiosità, una buona soluzione è l'utilizzo dei colori. Per questo evitiamo di accoglierli in una stanza completamente bianca, ma piuttosto in una stanza colorata, che possa assomigliare alla loro stanza dei giochi. Per memorizzare i nomi dei pezzi della batteria e i loro rispettivi suoni, possiamo fare un gioco in cui il bambino o la bambina è girato di spalle, e l'insegnante colpisce un pezzo alla volta, sfidandoli a ridovinare di quale pezzo si tratti. Praticamente un primo esercizio di air training. Dopo una fase introduttiva, orientata più al gioco che allo studio, possiamo passare ai primi aspetti tecnici, come l'impugnatura delle bacchette, la postura e qualche primo esercizio di lettura. Per sviluppare la coordinazione degli arti, possiamo iniziare con un primo ritmo in quarti, tipo questo. Ora possiamo ripetere questo esercizio, ma facendoli contare mentre suonano. In questo modo. Poi, per spiegare cosa siano i quarti, gli ottavi e i sedicesimi, ci sarà tempo. All'inizio può essere difficile per una bambina o un bambino suonare la batteria acustica, sia per le dimensioni che per il forte impatto sonoro. Se poi abitate in un appartamento e non volete avere problemi di vicinato, vi consiglio di iniziare da una batteria elettronica, che vi permette di suonare o a basso volume o in cuffia. Io personalmente ho cominciato su questo coso qui. Yamaha DD75, un giocattolo portentoso, completo di tutti i suoni. Cassa, rullante, tom, piatti. Poi mi è stata regalata una batteria elettronica, tipo questa, della Roland. A 11 anni mi è stata regalata la mia prima batteria acustica, economica ma completa di tutto. Tipo la Pearl Midtown, che è un modello super compatto, con cassa da 16, tom da 10, timpano da 13 pollici e rullante da 14x5,5. Tutto questo per un prezzo inferiore ai 500 euro. Ah, e poi non dimentichiamoci delle bacchette. Per iniziare ci sono le Vic Firth Kids, che sono più corte e più leggere rispetto a delle bacchette classiche. Un ultimo consiglio che mi sento di dare ai genitori è di far ascoltare quanta più musica possibile di tutti i tipi dentro casa e se capita portarli a qualche concerto dal vivo. Ad esempio, un mio piccolo allunno di soli 5 anni è rimasto folgorato dal batterista di Vasco Rossi, Matt Laug, e ha chiesto al padre di iniziare a storare la batteria. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Continuate a seguirmi, mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Daie!